Benvenuti su Gossip Mania TV. GF VIP Shock, Cesara Buonamici e Alfonso Signorini litigano per la finale, ma cosa dici Cesara? Prima di proseguire, se vuoi rimanere aggiornato sulle ultime novità, ti chiediamo gentilmente di iscriverti al canale ed attivare la campanellina. Grazie. Il Grande Fratello si avvicina alla sua conclusione anticipata, come annunciato da Alfonso Signorini nella puntata di ieri, giovedì 14 marzo 2024. La finalissima è stata fissata per il prossimo 25 marzo, anziché all'inizio di aprile come inizialmente previsto. Durante la trasmissione, Signorini ha scherzosamente rimproverato Cesara Buonamici per aver indicato erroneamente il 4 aprile come data della finale durante una precedente ospitata a pomeriggio 5. Tuttavia, dietro questa modifica di programma potrebbe celarsi più di un semplice malinteso. È improbabile che una professionista esperta come Buonamici abbia fatto un errore del genere senza una solida base di conoscenza e il consenso di Mediaset. Le ragioni di questa finale anticipata potrebbero riflettere problemi di ascolto, dato che i numeri della diciassettesima edizione del GF sono stati piuttosto deludenti, con share che non hanno mai superato il 20% e sono stati influenzati negativamente dalle fiction rai. Inoltre, potrebbe esserci una motivazione legata ai concorrenti stessi del Grande Fratello. Alcuni di loro sembrano essere coinvolti in una sorta di «rivolta» silenziosa e avrebbero richiesto di non trascorrere la Pasqua all'interno della casa, spingendo così la produzione e Signorini ad anticipare la chiusura del reality. Lascia un commento alla fine del video e seguici per gli aggiornamenti. Grazie per essere stati con noi. A presto con un nuovo video. Ci vediamo al prossimo Gossip.